Il trattamento ortodontico è stato a lungo una preoccupazione sia per i pazienti giovani che per quelli più anziani, ruotando attorno a una domanda senza tempo e stereotipata «Quando toglierò l'apparecchio?». Questa domanda ha storicamente portato connotazioni negative, creando un senso di apprensione e carico psicologico per i pazienti. I trattamenti ortodontici sono stati percepiti per durare per due o tre anni, accompagnati da disagio e dolore. Immagina che qualcuno ora ti informi che il trattamento ortodontico può spesso essere terminato in soli 100 giorni, che è un periodo di tempo abbastanza breve. Potrebbe essere difficile da credere e, anche se lo facessi, probabilmente ti aspetteresti che l'esperienza sia dolorosa e persino angosciante. Tuttavia, è importante riconoscere che la maggior parte dei processi di trattamento legati alla salute nel corpo non durano per anni. Ad esempio, una ferita in genere guarisce entro pochi giorni e una gamba rotta non richiede più di 60-90 giorni per guarire. Allo stesso modo, durante il movimento dei denti, quando i denti si spostano e si riallineano, l'osso che li circonda subisce un processo simile alla decostruzione, per rottura e alla ricostruzione di una gamba rotta. Allora perché il movimento ortodontico richiedeva tradizionalmente anni per essere completato? La risposta sta nel processo naturale di eruzione dei denti. Quando i denti appaiono in bocca durante la giovinezza, questo processo di eruzione li porta alle loro posizioni finali nell'arcata dentale. Idealmente, se tutto è perfetto, non sono necessari ulteriori interventi. Tuttavia, se i denti eruttano in modo improprio, causandone la stortezza, l'inclinazione, la sovrapposizione o la distanziazione irregolare, può portare all'ortodontosi con un impatto sull'osso alveolare. È qui che entra in gioco la tecnologia avanzata come Fast Braces, inventata dal professore di ortodonzia e ortodontista specialista Anthony Viazzi di Dallas, Texas, USA. Fast Braces Technology è un'innovazione americana che ha rivoluzionato l'ortodonzia per 30 anni. Offre a dentisti e ortodontisti i mezzi per raddrizzare i denti in modo rapido, sicuro ed efficiente, spesso completando i trattamenti in circa 100 giorni. La tecnologia ha guadagnato popolarità globale, rivolgendosi sia ai bambini che agli adulti, e ha trattato con successo migliaia di pazienti in oltre 50 paesi. Fast Braces Technology, supportata da tre nuovi brevetti, impiega sistemi di staffe ortodontiche ad alte prestazioni, apparecchi triangolari, che promuovono l'ortoeruzione, un movimento simile all'eruzione naturale dei denti. Utilizzando un singolo filo quadrato, la tecnologia consente il movimento simultaneo della radice, parte invisibile del dente che si trova all'interno dell'osso alveolare, e della corona, parte visibile nelle loro posizioni finali, con conseguente denti dritti e morfologia ossea-alveolare ripristinata.